La gestione Borghetti, sindaco Orlandi, è partita la settimana dello sport a Ro, finalmente, cosa possiamo aspettarci in questa settimana e quali sono gli appuntamenti? Allora, 51 appuntamenti, oggi è il primo di apertura dedicato alla ginnastica ritmica e poi diciamo tutta settimana ci saranno eventi diversi per la città, se dico giusto qualcuno poi il calendario completo lo trovate sul sito del comune. E domani davanti allo Center ci sarà una gara di droni e la possibilità di utilizzare i droni per i cittadini insieme a un altro corso di ballo e giovedì, sempre qua in piazza, i campioni olimpici della scherma verranno a tirare, quindi giovedì sera vi aspettiamo in piazza Ro per rifare i campioni olimpici, ci sarà anche lo street food, quindi ci si diverte, si può mangiare e bere. Venerdì, sabato e domenica al Molinello, a Parco Pirandello, al Campo di Mazzo e a Lucernate ci saranno tornei e niente, seguiteci sui social in modo da vedere tutto. Tutto che sarà anche per le associazioni sportive di mettersi in mostra? Sì, in questa settimana ci sono più di 50 associazioni sportive, migliaia di tetti atleti si prendono la città, sarà una città di rock piena di sport, di tantissimi eventi, situazioni di incontro per far vedere che lo sport è la parte forse tra le più importanti della nostra città. Un'infrastruttura fatta di persone, di appassionati e anche di atleti di alto livello che abbiamo. L'importante è divertirsi, quindi auguri a tutti questa settimana dello sport, seguiteci e vivete la città all'insegna dello sport.